Amici e amici di Rossini TV Bentornati al nostro appuntamento del lunedì dal salottino di Fisioradi Medical Center Checkup Obiettivo Salute, terza stagione e per la terza volta incontriamo il dottor Paolo Razzaboni Buonasera dottore Buonasera a tutti Il dottor Paolo Razzaboni appunto l'abbiamo già, abbiamo avuto modo di conoscerlo nelle nostre prime due edizioni ma oggi lo conosceremo ancora meglio perché abbiamo la possibilità di fare insieme a lui un viaggio un viaggio che comincia da quella che è la specializzazione del dottor Razzaboni medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia ma nello specifico grandissima esperienza sulla tecnica mini invasiva che lo preannuncio, parte dall'ultimo anno di specializzazione che il dottore ha fatto in Australia si concretizza a Bruxelles e oggi viene applicata in tutti i luoghi dove lui lavora che sono al di là di Fisioradi Medical Center anche Forlì, Ravenna e Rimini Dottore ho detto tutto io, non parlo più, ci parli di questa tecnica mini invasiva e da dove nasce oltretutto questa passione? Dunque la mia passione per la chirurgia d'anca nasce come ha detto lei durante l'ultimo anno di specializzazione che ho trascorso in Australia dove a seguito di una borsa di studio mi dedicai prevalentemente alla chirurgia d'anca e tornato in Italia ho avuto la fortuna di intraprendere la mia formazione ospedaliera con un primario che mi ha dato spazio su questa chirurgia che non è cosa da poco per un giovane come ero io allora e nel 2009 decidemmo di affrontare insieme il nostro primo viaggio in Belgio dal professor De Witt che era un luminare di questo tipo di chirurgia e di questo approccio cosiddetto mini invasivo che era sì conosciuto ma ben poco praticato per cui noi affrontammo il viaggio in Belgio ci fu subito grande feeling tra di noi e il professor De Witt e decidemmo di continuare sia ospitandolo in Italia sia tornando noi in Belgio successivamente e una volta presa la tecnica di iniziare a riprodurla sui nostri pazienti detto che il dottore ha detto quando era giovane in realtà è giovane se lo faccia dire da chi non lo è più quindi comunque conserva la sua bella gioventù e esattamente poi se noi dovessimo descrivere in 30 secondi in cosa consiste questa tecnica mini invasiva che viene utilizzata nelle protesi? ma rispetto agli approcci chirurgici tradizionali quindi la via laterale diretta e la via posterolaterale è un approccio che sfrutta un intervallo muscolare naturale tra un gruppo di muscoli e quindi consente di non dissezionare i gruppi muscolari vengono semplicemente divaricati si riesce ad arrivare all'articolazione dell'anca e a sostituire l'articolazione con una protesi senza intaccare il patrimonio muscolo-scheletrico dell'anca che questo chiaramente si traduce in un recupero funzionale molto più precoce e in una praticamente assenza completa di dolore e non è poco immaginatevi quindi praticamente pochi giorni dopo che si viene sottoposto a questi interventi già si è in grado di ripartire poi però ci saranno degli elementi che intercorrono sul fatto che questa chiamiamo guarigione sia più veloce, più efficace, più determinante per la persona che poi ha vissuto l'operazione Assolutamente sì, io sono un grande sostenitore della collaborazione tra il chirurgo ortopedico e la figura del fisioterapista non soltanto dopo l'intervento ma anche come lavoro preoperatorio dico sempre ai fisioterapisti con cui collaboro di venire in sala operatoria a vedere quello che facciamo perché capire quello che fa il chirurgo è fondamentale per poi proseguire il lavoro da fisioterapista e se c'è collaborazione tra le due figure il paziente è quello che ne traduce i maggiori benefici perché ovviamente il fisioterapista adatta il protocollo riabilitativo al paziente stesso Esatto, quindi c'è una perfetta sinergia fra azione del medico che sa quello che ha fatto e azione del fisioterapista che su quello che ha fatto il medico lavora per recuperare ma quando è che si rende diciamo necessario per una persona la protesi d'anca o anche non solo, anche quella del ginocchio perché sappiamo che molto spesso succede che a una certa età ci si ritrovi in condizioni di doverlo fare Assolutamente sì, io sono cresciuto a Rezzoli dove questo tipo di interventi venivano praticati in una finestra ristrettissima di pazienti tra i 65 e i 75 anni oggi la finestra si è quintuplicata si fanno protesi d'anca e di ginocchio a pazienti giovanissimi intorno ai 40 anni e si possono fare protesi d'anca anche a oltre 80 anni, 85 anni quindi la carta di identità non è più un parametro non è più l'anagrafe quello che conta ma è la scadente qualità della vita che questi pazienti hanno anche da giovani in tutte le attività quotidiane, lavorative, sportive che limitano fortemente i gesti della vita quotidiana quindi a quel punto diventa secondo me imperativo procedere alla sostituzione dell'articolazione che è ovviamente fortemente danneggiata dall'usura della cartilagine ecco danneggiata quindi provoca dolore ha già citato il fatto che capita che anche sportivi si ritrovino a fare, a dover fare protesi d'anca, l'esempio è un tenista famosissimo Murray che neanche a 35 anni si è rimesso in campo comunque a giocare a tennis a quei livelli ma esatto quindi c'è proprio una sensazione vera e propria di dolore e di difficoltà nel fare le cose di tutti i giorni fare le cose di tutti i giorni, la prima cosa ovviamente sono i gesti della vita quotidiana come allacciarsi un paio di scarpe, infilarsi dei calzini fare le scale, guidare, camminare poi chiaramente questo si estende anche alle attività lavorative, sportive se si tratta di pazienti particolarmente giovani e attivi e a quel punto se tutto diventa difficoltoso, tutto diventa limitante la qualità della vita diventa estremamente scadente quindi questi pazienti sono loro stessi che si fanno avanti per affrontare l'intervento e quindi per esempio nel caso dell'anca c'è proprio un dolore ben circoscritto ben evidenziato a livello dell'articolazione sì, nello specifico per l'anca il dolore è tipicamente inguinale è un dolore prevalentemente sottocarico ed è un dolore che non è controllato con le comuni terapie antinfiammatorie quindi è un dolore che associa un'usura e quindi un blocco meccanico dell'articolazione ha dei fatti infiammatori acuti quindi le due condizioni determinano un dolore assolutamente importante certo e quindi la necessità in qualche modo di farvi fronte anche con l'intervento poi c'è comunque per quello che riguarda qualunque pratica medica l'importanza dell'aggiornamento cioè essere sempre pronti a conoscere, sapere dove vanno le tecnologie quali sono le possibilità e quindi c'è anche un futuro proprio per la c'è un ulteriore miglioramento nella protesi dell'anca beh, io dico sempre che l'ortopedia forse tra tutte le branche della medicina è quella che ha viaggiato a 100 km all'ora negli ultimi 10 anni oggi si impiantano protesi con design e materiali che erano assolutamente impensabili fino a 10 anni fa quindi epoche recenti, non epoche di preistoria e quindi è un treno su cui non puoi non salire e non puoi rimanere non aggiornato oggi la fa da padrone l'avvento delle tecnologie di robotica di navigazione assistita durante questo tipo di interventi ed è un mondo, un mercato in continua evoluzione in cui il chirurgo ortopedico deve necessariamente rimanere aggiornato ed è questo un po' quello che mi, diciamo, ispira a viaggiare a confrontarmi con chirurghi anche di altri paesi di altre realtà perché tutti questi viaggi di lavoro che affronto questo scambio, questo interscambio di informazioni, di tecniche su come affrontare questi tipo di interventi in realtà per me è sempre stata la chiave vincente per rimanere comunque sempre molto aggiornato quindi vedete si può girare il mondo non solo scrivendo le guide della Lonely Planet ma anche proprio svolgendo una professione alla continua ricerca del futuro e del confronto e a questo proposito il dottor Razzaboni è stato recentemente in India dove peraltro ha formato e si è confrontato con un gruppo di suoi colleghi indiani e quindi ha potuto vedere da vicino questo mondo del quale noi sentiamo tanto parlare ma magari su alcune cose non abbiamo tante notizie dovendole fare una domanda brucia pelo dottore lei come ha trovato la sanità indiana? beh la sanità indiana necessariamente deve far fronte a dei volumi che sono assolutamente impensabili oggi l'India è il paese più densamente popolato al mondo ha superato la Cina di fatto e io stesso sono rimasto sconvolto dalla quantità di pazienti che vanno ogni giorno sia nelle cliniche pubbliche sia nelle cliniche private per sottoporsi a questo tipo di interventi quindi il mercato ortopedico guarda ovviamente con grande interesse a tutta la parte asiatica la Cina, tutto il sud-est asiatico, l'Australia stessa perché comunque hanno una quantità di popolazione veramente impressionante è stato un viaggio, io non c'ero mai stato quindi per me è stata una novità molto interessante loro stessi si sono dimostrati molto aperti nei miei confronti nel cercare di apprendere questa tecnica mini-invasiva anteriore perché ancora da loro non è così diffusa nonostante i importanti numeri che vengono fatti di interventi di protesi e poi sono stati talmente interessati che sono tornati in Italia quindi abbiamo fatto un viaggio al contrario sono venuti in sala operatoria con me e quindi è nata questa collaborazione che va avanti perché tornerò da loro tra qualche mese per approfondire ulteriormente i vari aspetti degli interventi quindi parlavate in inglese, non in indiano o in italiano? è un inglese difficilmente comprensibile perché loro di fatto parlano indiano con qualche parolina inglese però insomma ci si capisce sui termini tecnici scientifici ci si capisce abbastanza ha affrontato una questione molto interessante c'è questo spostamento comunque anche di una realtà economica importantissima verso il sud-est asiatico ha già detto il dottore che l'India è il secondo paese per numero di abitanti dopo la Cina ma il più densamente abitato considerate che fra Cina e India sono quasi 4 miliardi quasi la metà della popolazione mondiale è lì ma quindi effettivamente è vero che il mondo sta spostandosi da quella parte o è una cosa, un'impressione che noi occidentali ancora non vogliamo vedere? no, di fatto è così io insomma mi sono un po' informato tutte le principali tecnologie il mondo ingegneristico in India è veramente all'avanguardia ed è vero che si sta spostando tutto in quella direzione non so fino a che punto si sposterà però di fatto molte multinazionali guardano all'India e ai paesi del sud-est asiatico con grandissimo interesse anche per motivi economici e quindi pensate anche questo che grande impatto ha sulla questione ambientale perché noi nel nostro mondo occidentale in Europa ma non solo anche negli Stati Uniti viviamo una realtà di un certo tipo quando invece in India un miliardo e mezzo di persone in uno spazio relativamente ristretto vivono consumandone parecchie di risorse naturali assolutamente io ho trovato la cosa che mi ha sconvolto di più è stato indubbiamente il traffico spostarsi nel giro di pochi chilometri da un ospedale all'altro da una clinica all'altra è come affrontare un viaggio lunghissimo che può durare delle ore e quindi già questo scombussola i piani di una persona occidentale come siamo noi perché non metti in conto il tempo che può passare per spostarti anche lavorativamente da un posto all'altro come fanno la maggior parte dei chirurghi indiani tant'è che molti di loro mi hanno così ridendo detto che io avevo viaggiato più di loro di quanto loro viaggiano abitudinariamente nel loro paese io in realtà ero a Mumbai che è una delle città più grandi in India e quindi questa cosa mi ha sconvolto e di fatto condiziona la vita di queste persone certo che poi tantissime si muovono anche sulle due ruote perché lì le due ruote non sono come da noi un accessorio ma sono un elemento vitale per muoversi un'altra cosa dottore qui siamo in un centro fisioterapico all'avanguardia in Italia nella nostra città lo stato dell'arte della fisioterapia in India com'è? viene percepita come un'arte medica importante o ancora sono all'inizio? sono secondo me ancora piuttosto indietro anche per problematiche logistiche come dicevo prima di spostamenti di andare in centri che possono essere dedicati alla fisioterapia ci sono ovviamente delle cliniche private pure o private convenzionate dove il servizio di fisioterapia rientra nel pacchetto diciamo di questo tipo di interventi nella sanità pubblica questo diventa una chimera diventa difficilmente realizzabile però con gli stessi chirurghi con cui abbiamo collaborato abbiamo trovato un grande punto in comune proprio sull'importanza della fisioterapia nel risultato funzionale di questi pazienti perché il gesto chirurgico per quanto ben fatto per quanto mininvasivo sia se non si sposa con un protocollo riabilitativo fatto perfettamente è un intervento che cade nel vuoto con rischi di insuccesso per il paziente un'ultima cosa dottore qualche tempo fa è andata in onda sulla principale televisione italiana una serie tv che sta davvero ha riscosso un grandissimo successo DOC questo Luca Argentero dottore dalla grandissima umanità quel modello riproposto nel telefilm lei lo vede reale realizzabile in Italia è un qualcosa che appartiene alla realtà televisiva oppure no? si sta andando in quella direzione? Allora nella sanità pubblica è oggi come oggi un modello difficilmente realizzabile perché ci sono grandi difficoltà a livello numerico di organico quindi turni veramente importanti quindi nella sanità pubblica oggi è difficile nella sanità privata convenzionata dove fondamentalmente è il paziente che sceglie il proprio medico è un modello più riproducibile sicuramente perché c'è una sorta di fidelizzazione tra medico e paziente lei l'ha seguita la serie? parzialmente parzialmente grazie dottor Razzabone per essere stato con noi anche questa sera grazie davvero grazie grazie a tutti voi per averci seguito appuntamento a lunedì prossimo con CheckUp Obiettivo Salute grazie a tutti 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 grazie a tutti